Se ti stai preparando al test in medicina e stai cercando materiale sulle implicazioni, allora sei nel posto giusto. Oggi ci occupiamo di implicazioni logiche, in particolare di questo esercizio. Mi piacciono i quiz in medicina perché sono scritti in modo tale da essere più di un singolo esercizio, ma un insieme di quiz messi insieme che ti costringono a lavorare su tutte le combinazioni possibili. Prima di affrontare questo quiz però, se non l'hai ancora fatto, ti invito a vedere il video di teoria sulle implicazioni logiche. Trovi il link nell'angolo in alto a destra dove c'è la i cerchiata, oppure in descrizione. In questo video riprenderò molti dei concetti che ho già presentato in quel video di teoria. Ma veniamo al quiz. La prima cosa da notare è che la collocazione temporale, sabato pomeriggio, non viene richiamata in nessuna delle quattro affermazioni, quindi la possiamo ignorare. La stessa cosa la possiamo dire del fatto che Giorgio e Alice siano o meno con gli amici. Quindi concentriamoci solo sul fatto che Giorgio vada alla lezione di cucina e che Alice vada alla partita di rugby. Allora la frase di partenza può essere schematizzata con questa implicazione logica. Se Giorgio va alla lezione di cucina, allora Alice va alla partita di rugby. Le quattro affermazioni da verificare sono interessanti per la presenza di quel quindi. Non si tratta, cioè, di un semplice accostamento di due frasi. La prima, per esempio, non è del tutto equivalente ad Alice non ha assistito alla partita di rugby e Giorgio non ha frequentato la lezione di cucina. Ma c'è un legame logico tra le due parti dell'affermazione. Quel legame non è un'implicazione, come potrebbe sembrare a prima vista. Si tratta di un'inferenza, cioè, data per vera l'implicazione di partenza e data per vera la prima parte dell'affermazione, cosa segue necessariamente? Quel quindi rappresenta quella tirovesciata che presentavo sul video di teoria, quella tirovesciata che indica una conseguenza logica. Nel video di teoria la leggevo come segue, quindi è un altro ottimo modo per renderla in italiano. Schematizziamo, pertanto, le quattro affermazioni in questo modo. Quindi l'esercizio ci sta dando un'implicazione logica, quattro proposizioni che diamo per vere e quattro conseguenze delle quattro affermazioni. Fin qua ci sei? Allora, metti il like al video e ripartiamo. Ora, sappiamo che, dato un'implicazione, sono due le regole di inferenza che possiamo applicare. Il modus ponens e il modus tollens. Il modus ponens dice che se l'antecedente è vera, ne segue necessariamente che anche la conseguente è vera. Siamo esattamente nella situazione dell'affermazione B. Quindi questa affermazione è vera per modus ponens. Il modus tollens dice, invece, che se la conseguente è falsa, ne segue necessariamente che anche l'antecedente è falsa. E siamo esattamente nella situazione dell'affermazione A. Le altre inferenze non sono valide. Nella C viene data per vera la conseguente e sappiamo che quando la conseguente è vera, non posso dire nulla dell'antecedente. Nella D viene data per falsa l'antecedente e sappiamo che quando l'antecedente è falsa, non posso dire nulla della conseguente. Quindi, delle cinque combinazioni proposte, quella giusta è la C. Tutto chiaro? Iscriviti al canale e clicca sulla campanella così non perderai nessun video di questa serie. Ciao! Iscriviti al canale Iscriviti al canale Iscriviti al canale